Vicepresidente Capaccioli, come sappiamo nel 2021 l'Italia presiderà il G20, il forum che riunisce i capi di Stato e di governo delle principali economie del mondo, ma è anche il paese co-organizzatore della Pre-Cop 26, ossia di quegli eventi, di quelle giornate preparatorie che precedono la conferenza ONU sul clima. Le giornate si svolgeranno a Milano tra fine settembre e inizio ottobre e Green Building Council Italia si sta spendendo molto per questo appuntamento. Quali obiettivi avete? Un anno sicuramente ricco di eventi, a partire proprio dal G20, il summit che ci vede quest'anno come Presidente e come paese che ospiterà l'evento stesso. In particolare in Italia e da Milano dal 30 settembre al 2 ottobre avremo la Pre-Cop in cui si inizierà a affrontare nello spaccato del nostro paese il tema del cambiamento climatico. L'evento partirà con Youth for Climate in cui i giovani tenderanno a essere al centro del cambiamento. Per quanto riguarda i temi della nostra associazione ovviamente cercheremo di far capire e valorizzare quanto sia importante costruire secondo delle regole, regole che sono quelle della sostenibilità energetico-ambientale di cui voglio dire i nostri protocolli sono sicuramente una buona dottrina. Da questo punto di vista non posso non ricordare l'importanza della finanza soprattutto in un momento in cui si sta parlando di Recovery Fund, di Next Generation EU e dell'importanza di questa grossa quantità di denaro che è in arrivo nel nostro paese. Ecco costruire con una visione, visione prospettica di riqualificazione, di rigenerazione, rivedere le nostre città ma soprattutto pensare anche al controllo e alla verifica della spesa. Ricostruire ma con attenzione, ricostruire con una visione sul controllo della spesa grazie anche ai protocolli della nostra associazione. Noi crediamo che questa sia una grande opportunità e la vivremo in maniera molto attiva, fattiva, tanto è vero che nella Pre-Cop avremo appunto la Building Day, una giornata dedicata al costruito, al building, al building sostenibile da cui non si potrà più prescindere, soprattutto non si potrà prescindere in assenza di finanza. Il controllo sulla finanza sarà importante e determinante. Grazie a tutti.